Oggi a Napoli stanno sfilando i dipendenti Whirlpool, sono arrivati da tutti gli stabilimenti d'Italia, sono davanti al Consolato americano. Che cosa vuole dire lei a questi lavoratori? No, che noi li sosteniamo, li abbiamo sostenuti e li sosterremo per una battaglia che non è senza speranze ed anzi mai come in questo momento in fase di pandemia sanitaria e di epidemia sociale ed economica non si può chiudere la Whirlpool di via Argine con 209 miliardi che stanno per arrivare dall'Europa. Se la risposta è chiudiamo le fabbriche nel mezzogiorno d'Italia non ci siamo, quindi noi sosteniamo questa battaglia che va vinta, non va solo sostenuta.